Ciao a tutti! Smetti di essere forzatamente gentile, fai atti di coraggio. Allora, in questo video voglio spiegarti perché evitare di essere forzatamente gentili, ma fare atti di coraggio è molto importante, è molto importante perché in amore, altrimenti si prendono delle batoste, si prendono delle legnate molto forti. Prima di affrontare questo tema però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Inoltre ti ricordo che sul canale esiste il servizio abbonamento, se ti abboni potrai ricevere delle risposte precise, mirate alle tue domande. Allora, e veniamo dunque al tema, smetti di essere forzatamente gentile, fai atti di coraggio. Allora, quali sono gli atti di coraggio e cosa vuol dire essere forzatamente gentili? Allora, nelle relazioni sentimentali affettive, spesso le persone tendono a zerbinarsi, tendono a fare gli zerbini, tendono a essere eccessivamente disponibili nei confronti degli altri, forzatamente, forzatamente gentili perché hanno paura, hanno paura di poter perdere praticamente una persona, di poter essere abbandonati. Arrivano pure delle cose allucinanti, ma se non li scrivo, cosa succede? Cosa succederà mai se tu non li scrivi? Quando questo non ti scrive, ti risponde ogni morte di Papa. Ci sono persone che cercano di essere forzatamente gentili, no? Ad esempio, persone che manco li prendono in considerazione o li prendono in considerazione ogni tanto, quando una volta all'anno gli scrivono qualcosa, loro dicono, ma se non li rispondo, questo non ti risponde mai. E tu temi che se tu non li rispondi una volta, chissà cosa succede. Ma cosa vuoi che succeda? Peggio di così non può andare. Puoi assolutamente pensare che una persona in qualche modo si coinvolga con te, se sei un zerbino, se accetti, o una zerbina, se accetti tutte le situazioni per paura. E le paure quali sono? Eh, le paure sono la paura di essere abbandonata, la paura di essere rifiutata, la paura che non ti prende più in considerazione. A monte di tutto questo c'è la paura della solitudine, no? Perché questa è una paura delirante, no? Perché, come dire, noi siamo in un pianeta sovrappopolato, diciamo così, no? In cui veramente siamo sovrappopolati. Ma l'unica cosa che non può esistere, se uno vuole, perché poi c'è chi preferisce starsene solo, il che non significa fare casti puri, diciamo così, non avere relazioni. Queste sono questioni di scelte. Però voglio dire, se uno vuole avere una relazione, ce l'ha una relazione. Certo è che se tu ti accanisci, ah, voglio questo, uno su otto miliardi, ebbè, allora, se quello lì non ti va bene, sono cavoli tuoi. Ma questo è una sorta di perfezionismo narcisistico per potersi lamentare. Spesso poi le persone vogliono di fatto potersi lamentare, vogliono di fatto poter dire, non mi va bene niente, l'universo ce l'ha con me. Ecco perché poi si entra in una sorta di conflitto. Prima con se stessi iniziando a dire che si è sbagliato, iniziando a dire che non si vale niente, iniziando a dire che siamo le persone, siamo incapaci di raggiungere dei risultati. Spesso facciamo questo, facciamo questo. E poi c'è un altro fatto fondamentale, no? Che oltre a zerbinarci da questo punto di vista, perché ci si zerbina, si pensa che il destino ce l'abbia con noi, no? E allora ci si zerbina ancora di più. Quindi, prima devi recuperare l'autostima e devi recuperare la forza interiore. Quindi, quello che devi fare è se una persona non soddisfa le tue esigenze, devi mandarla a fan, cu, fan cool. Devi mandarla a stendere. Devi fare un atto di coraggio. L'abbandono è il rifiuto. Somministratelo da sola, somministratelo da solo. Ma non stare lì a piangere, non stare lì a dire Uh, ma come faccio? Oh, ma è impossibile ottenere qualcosa. Ma come faccio? Ecco, questo lamentele, fare la sirena, no? Fai la sirena, ti lamenti, non serve assolutamente a nulla. Serve soltanto a peggiorare la situazione. Quindi devi fare degli atti di coraggio. L'atto di coraggio è l'abbandono. Chiudi la relazione. Manda a cagare. Se una persona non fa quello che tu vuoi o se pretende di cambiarti, perché questo è un altro fatto, o se pretende di cambiarti, pretende di dire cosa devi fare o cosa non devi fare. Non devi assolutamente tollerare che qualcuno ti dica quello che devi fare e quello che non devi fare. Quello che sarebbe meglio che facessi o quello che non sarebbe meglio che tu facessi. Non devi assolutamente tollerarlo. A meno che uno non ti chieda un consiglio, a meno che tu non chiedi un consiglio a qualcuno, se qualcuno si arroga il diritto di darti consigli non richiesti, mandalo a stendere. Perché è una forma comunque manipolatoria. Ma pensasse lui o lei a quello che vuole fare o quello che non vuole fare. Non devi assolutamente accettare che ti dicano. Nell'ambito di una relazione, tu fai esattamente quello che ti pare. Vale quello che Yahweh disse a Mosè nella Bibbia, adesso non ricordo, nella Genesi mi sembra, dove gli disse io sono colui che è. Ma che significa? Io sono quel che sono. Se ti vado bene è così, se non ti vado bene fuori dai maroni. Questo è quello che bisogna imparare assolutissimamente a fare. Quindi che sono atti di coraggio. Gli atti di coraggio sono proprio questo. Se tu non sei complementare le mie esigenze, se vuoi cambiare, ti sanziono pesantemente con l'abbandono e se ne voglio un altro, me ne trovo un altro. Tanto, ripeto, siamo in un mondo sovrappopolato. Chi vuole trovarsi qualcuno non ci mette molto a trovarsi. Certo, anche se tu metti in atto un meccanismo narcisistico perché il tuo obiettivo non è emotivo, non è quello di trovare qualcuno, ma è quello di lamentarti, beh, allora ti darai, avrai modo di lamentarti perché andrai a trovare difetti in qualunque persona. Ti innamorerai soltanto proprio quelli dei peggiori in assoluto, in quelli che non ti vogliono assolutamente. Quindi devi stare all'occhio a evitare di mettere in atto delle situazioni che in qualche modo possano, diciamo, farti passare come uno zerbino o una zerbina. È veramente importante questo. È fondamentale, fondamentale. non ci possono essere altre situazioni diverse. Tieni presente questo e vedrai che si apriranno davanti ai tuoi occhi verdi praterie, si apriranno cieli azzurri e verdi terre, come diceva quella canzone di Battisti, Battisti. cieli azzurri e verdi terre si apriranno davanti ai tuoi occhi e non avrai assolutamente più nessuna necessità di dipendere da qualcuno perché troverai forza, troverai coraggio dentro di te e troverai energia. Perché nel momento in cui tu fai un atto di coraggio, che non vuol dire non avere paura, ma vuol dire agire nonostante la paura e questo ricordiamocelo, avere coraggio non significa non avere paura ma significa agire nonostante la paura, per te si apriranno veramente nuove possibilità e crescerà fortemente l'autostima e con l'autostima inizierai ad attrarre, attrarre le persone giuste, le persone migliori, le persone che maggiormente ti potranno dare quello di cui desideri. Per ottenere il meglio devi lasciare andare il peggio. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video e ti ricordo che sul canale è disponibile il servizio abbonamento, se ti abbonerai potrai ricevere delle diciamo risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!